Protesta nuovamente Biagio Casola, un disoccupato di Villa San Giovanni, il quale, ancora una volta, si è incatenato per protesta davanti alla sede del comune. L'uomo ha notevoli difficoltà economiche e chiede un alloggio e dignità per se stesso e per la sua famiglia, dichiarandosi disponibile a rendersi utile pur di guadagnare qualcosa. È dal 1982 che il disoccupato chiede una casa, ma tuttora sostiene di non aver avuto alcuna risposta dal comune. Tante le promesse, addirittura, gli sono state sottoposte alcune soluzioni, rivelatesi poi impraticabili. La denuncia è forte e vibrante, con la minaccia di pensare ad azioni ben più gravi se non sarà data una risposta al suo problema. La lotta, dice, continuerà fino a quando qualcuno non si farà vivo per darmi quell'alloggio che mi spetta.